Finte messe e falsi preti. Il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Michele Seccia, mette in guardia i fedeli sulla questione riguardante la presenza nella Diocesi della cosiddetta Chiesa Cattolica Ecumenica. Seccia segnala due abusi commessi la Domenica delle Palme, il 13 aprile, nella cappella privata dell'annunziata Villa Butteri di Teramo, con una liturgia simile alla Messa Cattolica, pur non essendo l'officiante lecitamente e validamente ordinato nella Chiesa Cattolica, né incardinato in questa o in altre Diocesi. E più recentemente, il 15 giugno, la celebrazione di una sedicente ordinazione episcopale, sempre in una cappella privata a Villa Butteri di Teramo. Tagli eventi, denuncia il Vescovo Seccia, hanno determinato tra i fedeli stupore e disorientamento, anche per l'uso di vesti e riti liturgici del tutto simili a quelli della Chiesa Cattolica Romana. Le ordinazioni conferite sono invalide e illecite, in particolare l'ordinazione episcopale conferita senza mandato pontificio, a norma del Canonico 1382 del Codice di Diritto Canonico. I sacramenti celebrati da ministri nolecitamente e validamente ordinati non hanno alcun valore e coloro che attentano alla celebrazione degli stessi incorrono nella scomunica, allate sentenzie a norma del Canonico 1378, sempre del Codice di Diritto Canonico. Infine, il Vescovo Seccia ha avvertito che coloro che dovessero partecipare a una qualsiasi liturgia, tenuta da organizzazioni come la Chiesa Cattolica Ecumenica, si pongono di fatto su un'altra strada che esclude la comunione con la Chiesa Cattolica Romana e con la fede apostolica.